Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Oggi voglio presentarvi non un dispositivo singolo, ma una serie di soluzioni per la protezione dei vostri smartphone e dei vostri apparati elettronici in generale. Voglio parlarvi di Mobile Outfitters. È di Umberto. Non lo farò mai più, giuro. Grazie a tutti. Di Mobile Outfitters, che ha ben cinque soluzioni diverse disponibili, non solo per gli smartphone, ma per molti altri apparati elettronici, le console, gli smartwatch, i computer. Davvero qualunque tipo di prodotto può essere protetto con una delle soluzioni Mobile Outfitters. E che, come detto, sono cinque. Le Clear Coat, le Style Skin, la protezione Fusion, il Bumper Fusion e poi c'è anche una soluzione in questo momento in fase di elaborazione, di cui magari vi parleremo più avanti. Ma come funzionano queste soluzioni? Parto da Clear Coat, che è una soluzione che potete trovare, come vedete sul mio Huawei Mate 20 Pro, in una versione lucida che, vedete, non altera assolutamente l'aspetto del telefono. lo protegge tanto sul fronte quanto sul retro e anche sui bordi, anche con un telefono che ha i bordi arrotondati come questo. La soluzione alternativa, invece, è quella che vedete sul mio Galaxy Note 9. In questo caso, una soluzione opaca e, anche in questo caso, tra l'altro, soluzione che protegge tanto il retro quanto i bordi e anche, perché no, la parte frontale del telefono senza alterarne l'aspetto. Questa è una delle caratteristiche di Clear Coat. E, tra l'altro, uno degli aspetti fondamentali per quanto riguarda l'offerta di Mobile Outfitters è che, nel caso di Clear Coat, avete due opzioni, quindi lucida e opaca, e potete personalizzare praticamente qualunque tipo di oggetto elettronico, non solo gli smartphone, ma proteggere anche il vostro computer, in particolare i computer di Apple, i Mac, che si possono proteggere dai graffi che possono arrivare durante i trasporti. Altra soluzione, invece, è Style Skin. La vedete qui applicata al mio OnePlus 6T. Ci tengo a sottolineare che questo è il OnePlus 6T per una ragione sola, che la disponibilità della Style Skin per questo modello è la prova che, insomma, qualunque tipo di telefono è compatibile con i prodotti di Mobile Outfitters. Io, in questo caso, ho scelto una finitura simil carbonio rossa. Vedete, la protezione è tanto sui bordi quanto sul retro. Questa è una protezione, una delle 24 disponibili. Volendo, potete utilizzare anche una versione split, cioè con un doppio colore applicato al vostro dispositivo. C'è una garanzia a vita per i prodotti di Mobile Outfitters e se domani doveste, ad esempio, cambiare un prodotto e avere lo stesso prodotto magari in versione rinnovata, potete spostare anche la protezione dal vecchio telefono a quello nuovo, ripeto, se il telefono è uguale, pagando solo la manodopera di applicazione. Anche le Style Skin non sono limitate al solo smartphone come soluzione, ma possono essere applicate, ad esempio, al vostro case degli AirPods di Apple. Io l'ho utilizzato anche per la mia Nintendo Switch. Si possono applicare anche alle console dei videogiochi e, perché no, pure ai computer. Adesso arriva un momento in cui io mi devo allontanare, perché abbiamo applicato la protezione Fusion su iPhone, su iPhone X. Abbiamo messo anche il bumper e io non posso guardare quello che stiamo facendo in questo momento, perché guardate quello che viene fatto adesso. No, non si può fare una cosa così a questo telefono, non è giusto. Io raccolgo il telefono con religiosa attenzione, mi avvicino al telefono e è intatto. Non c'è un graffio, non c'è assolutamente niente. Umberto è tuo? È mio, è mio. Ha due settimane, tra l'altro. È di Umberto. Non lo farò mai più, giuro. Però è intatto. Ricordate quello che abbiamo visto qualche secondo fa all'inizio di questo nostro video. Abbiamo visto un iPhone ultramaltrattato, addirittura con delle martellate. Ecco, in quel caso la protezione invece è quella della Fusion. La protezione Fusion di Mobile Outfitters, che è fatta per proteggere il fronte e il retro dei dispositivi con il vetro. Per completare ulteriormente questa protezione c'è anche il Bumper Fusion, oggi disponibile per iPhone, per il Galaxy S9, S9 Plus e anche per il Note 9. È il bumper più sottile al mondo, ha i cuscinetti ad aria negli angoli che garantisce la protezione in caso di urti. È davvero una soluzione eccellente che io consiglio per il vostro telefono, per non avere più assolutamente alcun tipo di patema. Allora, ricapitoliamo. Per proteggere il vostro smartphone con Mobile Outfitters, Clear Coat in due versioni, lucida e opaca. Gli altri invece la offrono solo lucida. Style Skin, 24 colorazioni diverse, anche in versione Split per proteggere il retro e i bordi. Gli altri invece proteggono solo il retro. Per il vostro iPhone la protezione Fusion sul fronte e sul retro e poi Bumper Fusion per iPhone, per Galaxy S9, S9 Plus e Note 9. Bumper Fusion che è il bumper più sottile al mondo con gli angoli, con i cuscinetti ad aria per proteggere dagli urti. Va sottolineato che Mobile Outfitters è partner certificato di Samsung in tutto il mondo. E poi c'è una nuova soluzione che è in lavorazione, in preparazione e in questo periodo avremo modo di parlarne più avanti. Allora, c'è un dato da sottolineare perché non va nascosto. Le soluzioni di Mobile Outfitters sono leggermente più costose rispetto ad altre che trovate sul mercato. Però bisogna dire che i materiali anche di cui sono composte queste soluzioni sono assolutamente superiori e durevoli nel tempo. La protezione Fusion, ad esempio, è flessibile e questo dà una maggiore sicurezza nella protezione del vostro telefono. E poi c'è la garanzia illimitata nel tempo, la possibilità di trasferire tanto le Style Skin quanto le Clear Coat anche su altri dispositivi. Quando magari cambiate il telefono e prendete un modello uguale, semplicemente pagando la mano d'opera per la sua applicazione. Allora, siamo davvero davanti ad una soluzione che vi può permettere di proteggere i vostri dispositivi e di salvarli da danni che possono essere molto più costosi delle protezioni che andrete ad applicare. Insomma, fatemi sapere come vi trovate.